Presidente, da ieri qui ritiro a Folgaria, come ha trovato i ragazzi? L'abbiamo vista a bordo campo, attentissimo ad ogni dettaglio durante le varie fasi della seduta d'allenamento. Quali sono le sue impressioni? Sì, è così quando parte la nuova stagione. Per me è importante notare tutti i dettagli, vedere come lavora l'allenatore, lo staff, lo stato d'animo dei giocatori. È un momento cruciale, quello del ritiro, perché si forma il gruppo e quindi noi dobbiamo quotidianamente, con la nostra presenza, cercare di aiutare questo percorso. Io ho un'impressione molto buona, perché innanzitutto il tecnico e il suo staff mi sembrano dei grandi lavoratori, dalla mattina presto fino al tardo pomeriggio fanno un grande lavoro, prima di organizzazione dell'allenamento e poi di un allenamento molto organizzato, senza tempi morti, quindi davvero si vede un lavoro serio. I ragazzi li vedo contenti, giustamente anche stanchi, perché si sta lavorando duro, due sedute al giorno, però c'è un bellissimo spirito e sono dei grandi lavoratori. Sia ovviamente i giocatori della prima squadra, anche i ragazzi della primavera stanno dando ottimi segnali. È un Lecce sempre vigile sul mercato? Sì, come voi sapete noi siamo super vigili sul mercato, con Pantaleo Corvino che lavora sia stando in sede che girando e con Stefano che è qui accanto alla squadra e che lavora anche lui su questo tema. Siamo molto vigili, il nostro obiettivo è chiaro, noi vogliamo alzare di un pochino, di un gradino il livello di questa squadra. L'anno scorso è una squadra piena di esordienti, di gente che non conosceva la Serie A, non l'aveva mai conosciuta e quest'anno invece c'è un gruppo che già ha maturato un anno di esperienza, abbiamo fatto degli innesti che sono funzionali a quello che dobbiamo fare, cercheremo di rendere questa squadra più forte della squadra dell'anno scorso. Poi se basta o non basta rispetto al risultato finale dipende da tanti fattori, però noi dobbiamo ogni anno crescere e ogni anno diventare più forti. Tanti tifosi, Presidente, hanno raggiunto qui la squadra a Folgaria durante il ritiro, non solo per i test amichevoli ma anche durante le sedute d'allenamento. Fa piacere tutto questo affetto che gravita attorno a Lecce? Sì, fa piacere incontrare non solo tanti tifosi che vivono al nord ma addirittura gente, ne ho incontrate tante, tante persone che sono venute appositamente dal Salento per stare qui vicino alla squadra. È un bellissimo segnale, è un modo diverso per fare le vacanze, fare qualche giorno di vacanza al fresco vicino alla squadra del cuore, quindi bravi. Noi questo affetto lo percepiamo e ce lo teniamo stretto. Questo affetto viene dimostrato anche in questa fase di campagna abbonamenti e peraltro notizia di queste ore che la società ha deciso di ridurre la pausa tecnica e anticipare l'inizio della vendita libera. Sì, innanzitutto non è vero come qualcuno vuole provare a far passare che la campagna abbonamenti non stia andando bene, perché ogni tanto vedo che qualcuno a cui piace, tra virgolette, inquinare un po' quello che sta accadendo in questo momento storico in cui c'è un idilio tra il Lecce e la propria tifoseria, si prova ad inquinare chi magari non è felice di questo idilio. La campagna abbonamenti va bene, abbiamo scelto di farla su più giorni, la prelazione per un periodo spalmato su molti più giorni rispetto agli anni scorsi e agli anni passati, proprio per evitare file, proprio per evitare disagi per i tifosi. Infatti i disagi non ce ne sono stati, però è chiaro che dall'altra parte il trend è più lento, è inevitabile. Però ecco, siccome tanta gente non può rinnovare perché magari vuole aggiungere un componente della propria famiglia in più o vuole cambiare posto, abbiamo deciso di ridurre la pausa tecnica a meno giorni e di anticipare di qualche giorno la vendita libera. Presidente, un'ultima curiosità, c'è un'escursione termica tra cui il Salento notevole. Com'è stato passare in poche ore da temperature così alte a un clima mite? Un salto di 30 gradi che non è che è proprio stato semplicissimo, però ecco, si sta bene qualche giorno qui al fresco, aiuta anche ad avere idee più lucide, però ecco, i 43-42 gradi che ho lasciato, speriamo si trasformino in punti a fine stagione. Ok, facciamo così. Grazie a tutti.